Un video celebra la costruzione delle Jeep Renegade Compass in versione elettrificata, l'assistente vocale di BMW vi stupirà. Il supporto di Jaguar e Land Rover nella lotta contro il Covid-19, oltre 160 veicoli donati alle organizzazioni umanitarie. La fase di preordine delle nuove Jeep Renegade Compass 4XE è già stata un successo e oggi il brand che negli anni ha fatto del fuoristrada il suo habitat ideale va incontro ai propri clienti attraverso la tecnologia. No, non quella presente sulle nuove Jeep ibride plug-in, ma con l'applicazione Google Meets che consente di gestire le relazioni a distanza permettendo ai potenziali clienti di osservare da vicino la nuova gamma senza uscire di casa e, perché no, anche fare un ordine direttamente online. L'Italia è il primo mercato a lanciare questa modalità di contatto remoto, il cui uso sarà poi allargato anche ad altri paesi. Il marchio Jeep ha inoltre deciso di rendere omaggio ai propri tecnici e ingegneri con un video di un suggestivo test su strada lungo 3.800 km, una prova di forza per le prime elettrificate della casa superata a pieni voti grazie alla loro affidabilità, sicurezza e comfort in ogni condizione. Piaccia oppure no, oggi come oggi gli assistenti vocali a bordo dei veicoli rappresentano una tecnologia davvero utile per alcune esigenze. Sempre più auto ne hanno uno e fra queste non poteva mancare BMW con il suo Intelligent Personal Assistant. Per attivarlo basta dire ciao BMW o in alternativa un nome che scegliamo noi e oltre a gestire autonomamente alcune funzioni del veicolo in base alle nostre preferenze come il riscaldamento di abitacolo e sedili è anche in grado di spiegare il funzionamento delle luci laser. I fari adattivi a LED con BMW laser light offrono un'illuminazione variabile e adattiva della strada e un abbagliante di profondità selettivo per non creare disturbo a veicoli e persone. Con questo sistema la funzione abbaglianti a LED viene potenziata utilizzando un proiettore laser light con selective beam che estende la portata degli abbaglianti a circa il doppio di quella dei fari full LED. Ma torniamo al nostro assistente vocale. La sua tecnologia gli permette di imparare le routine e le nostre abitudini per poi applicarle a seconda del contesto. Ad esempio se provate a dire ciao BMW sono stanco si avvierà un programma di vitalità. Jaguar e Land Rover scendono in strada per dare una mano nella lotta contro il coronavirus. Oltre 160 i veicoli inviati a supporto delle organizzazioni umanitarie tra cui la Croce Rossa Britannica per distribuire cibo e medicine alle persone più vulnerabili. I team Jaguar e Land Rover in Spagna, Francia, Sudafrica e Australia hanno dato in comodato i propri veicoli alla Croce Rossa. Jaguar e Land Rover lavorano a stretto contatto con il governo britannico mettendo a disposizione l'esperienza ingegneristica e di ricerca dell'azienda. Al servizio sanitario nazionale inglese sono stati donati equipaggiamenti protettivi inclusi gli occhiali di sicurezza avvolgenti destinati a diversi ospedali. Tramite la partnership con la Croce Rossa, Land Rover ha anche cofinanziato la risposta all'emergenza dell'organizzazione Disaster Relief Alliance che supporta numerosi programmi nel Regno Unito e nel mondo offrendo immediata assistenza finanziaria in caso di disastri incluso quello del coronavirus.